Un festival di per sé come principio, unico nel mondo, che si chiama perché si è nascosto il festival. Perché il teatro è un teatro di tradizione di teatro in Eguà, ma appunto semplicemente per dire chi ama la musica ha un'offerta che non trova da nessun'altra parte, ovvero io posso anche andare da altre parti. Ma il primo che riesce a muovere è quello, poi mi spiega come lo fa, quindi quello lo trova su un'altra parte. Anzi, se qualcuno chiede che cosa ci avete fatto, comunque lo danno così, per esempio abbiamo registrato, abbiamo fatto i pubblici, cerchi di Chopin e di Schumann, abbiamo forte l'orchestra dove l'orchestra era sostituita da lui. Oppure regna di Mozart, solisti, coro e al posto dell'orchestra c'era lui di nuovo. Abbiamo uno strumento che è un armonium anche al suo interno, una celeste. Grazie a tutti.